Amici dell'ABA, studenti e non studianti, Sursun Corda, oggi notizia terribile e sconvolgente. Sono appena tornato dall'edicola dove ho acquistato due giornali. Guardate cosa è successo. Sì ragazzi, purtroppo lo conferma anche il Corriere. È scoppiata la seconda guerra mondiale. Non ci crederete. Oggi il Duce ha dato proprio questo annunzio. Sentite che cosa ha detto Sua Eccellenza Benito Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia. Combattenti di terra, di mare e dell'aria, camice nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno di Albania, ascoltate! Un'ora, segnata dal destino, batte nel cielo della nostra patria! L'ora delle decisioni irrevocabili! La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia! Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente che in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insediato l'esistenza medesima del popolo italiano! Bravo, bravo, bravo! Alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere in queste frasi. Promesse, minacce, riccatti e alla fine, quale coronamento dell'edificio? L'ignobile assedio societario dei 52 stati! Buuuu! Buuuu! Questa è la folla, eh? La nostra coscienza è assolutamente tranquilla! Sì, sì! Questa era la folla. Con voi il mondo intiero è testimone che l'Italia del Littorio ha fatto quanto era umanamente possibile per evitare la tormenta che sconvolge l'Europa. Ma tutto fu vano. Duce, duce, duce! Bastava rivedere i trattati per adeguarli alle mutevoli esigenze della vita delle nazioni e non considerarli intangibili per l'eternità. Bastava non iniziare la stolta politica delle garanzie che si è palesata soprattutto micidiale per coloro che hanno accettato Bravo, bravo, bravo! Bastava non respingere la proposta che il Führer fece il 6 ottobre dell'anno scorso dopo finita la campagna di Polonia Bravo, 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 bravo! Ormai tutto ciò appartiene al passato. Se noi oggi siamo decisi ad affrontare rischi e sacrifici di una guerra gli è che l'onore, gli interessi, l'avvenire ferreamente lo impongono perché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia Bravo, bravo! Acclamazione Noi impugniamo le armi per risolvere dopo il problema risolto delle nostre frontiere continentali il problema delle nostre frontiere marittime Bravo, bravo, bravo! Noi vogliamo spezzare le catene di ordine territoriale e militare che ci soffocano nel nostro mare perché un popolo di 45 milioni di anime non è veramente libero se non ha libero accesso all'oceano Duce! 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 Questa lotta gigantesca non è che una fase lo sviluppo logico della nostra rivoluzione è la lotta dei popoli poveri e numerosi di braccia contro gli affamatori che detengono ferocemente il monopolio di tutte le ricchezze e di tutto l'oro della terra Bravo! È la lotta dei popoli fecondi e giovani contro i popoli isteriliti e volgenti al tramonto è lotta tra due secoli e due idee Ora che i dadi sono gettati la nostra volontà ha bruciato alle nostre spalle i vascelli Io dichiaro solennemente che l'Italia non intende trascinare nel confitto altri popoli con essa confinanti per mare o per terra Svizzera, Jugoslavia, Grecia, Turchia, Egitto prenderanno atto di queste mie parole e dipende da loro e soltanto da loro se esse saranno o no rigorosamente confermate italiani in una memorabile adunata quella di Berlino lo dissi che secondo le leggi della morale fascista quando si ha un amico di marcia con lui si va sino in fondo questo abbiamo fatto e faremo con la Germania col suo popolo con le sue vittoriose forze armate in questa vigilia di un evento di portata secolare rivolgiamo il nostro pensiero alla maestà del re imperatore che come sempre ha interpretato l'anima della patria e salutiamo alla voce il Führer il capo della grande Germania alleata l'Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi forte fiera e compatta come non mai la parola d'ordine è una sola categorica e impegnativa per tutti essa già trasvole accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano vincere e vinceremo per dare finalmente un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia all'Europa al mondo popolo italiano corri alle armi e dimostra la tua tenacia il tuo coraggio il tuo volere vi mostro anche la foto voi non ci credete guardate qua c'è anche la foto del Duce al balcone eccola qua di Palazzo Venezia eh eh ragazzi purtroppo comincia la guerra e ora sono problemi per tutti eh soprattutto per voi io non ci posso andare ho 53 anni non mi mandano certi in guerra eh poi il militare l'ho già fatto toccherà a voi purtroppo partire cari ragazzi della prima della seconda e delle terze di zelo eh questo non sarà molto facile ma come si dice spesso le avversità fortificheranno i vostri animi questo è tutto per oggi oggi è il oh non vi ho detto la data 11 giugno 1940 diciottesimo anno E F era fascista spero che abbiate abboccato al mio scherzo non dovete partire per fortuna per nessuna guerra l'Italia e l'Europa conoscono per la prima volta nella loro storia da 80 anni una pace duratura e speriamo ancora futura per molto tempo sembra incredibile ma se io ci penso i miei genitori sono nati nel 36 e nel 37 addirittura prima dello scoppio della seconda guerra mondiale o meglio del coinvolgimento italiano nella prima guerra mondiale e il nonno mio materno ha partecipato addirittura alla prima guerra mondiale giovanissimo era già sul fronte come tutte le nostre famiglie i vostri bisnonni particolarmente sono state segnate dalle guerre e come noi siamo la seconda generazione almeno io la seconda voi la terza generazione che ha la fortuna di vivere in un periodo di pace e di prosperità che in Europa non si era mai conosciuto spero che non abbiate abboccato lo scherzo non c'è nessuna guerra a cui partecipare e preghiamo e Dio che non ce ne sia mai naturalmente per tutte le nostre vite see you later alligator in Hawaii crocodile bye